Ciao bella tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio far vedere tutte le mie magliette di ragazzo. E iniziamo. Aspettate che le vado a prendere. Credo che le ho presi tutte e iniziamo. Allora iniziamo dalla più bella, no? Allora faccio un po' casaccio. Allora. Magliette della Juventus è la squadra che ti fa. È bellissima la maglia e ovviamente la devo per forza prendere di Cristiana. Questa qua è la prima maglia, molto bella, con la scritta Jeep. È un po' rovinata la scritta Jeep perché la ho usata tante volte. Andiamo alla prossima maglia. Seconda maglia del Barcellona, ovviamente. Una questa qua molto bella del Barcellona, ovviamente, di Lionel, Messi. Allora questa qua è la bellissima maglia. Andiamo alla prossima maglia. Questa qua è quasi elastico. Ciao. Ari, eccoci con la prossima maglia del PSG. Molto bella anche questa qua, ovviamente, sono tutte quante del 2020. Questa qua, numero 10. Nei Mario Nier. Nei Mario Nier, questa maglia. Anche questa qua molto bella. Andiamo alla prossima maglia. Maglietta del Liverpool, bellissima. Difensore numero 4. Vigi Van Lijka. Gran giocatore, gran difensore, gran tutto. Gran giocatore del Liverpool. Liverpool credo che la pagare un botto. Passiamo la prossima maglia. Maglietta del City, bellissima. Questa qua è la mia maglietta preferita della Puma quest'anno. Bellissima. Questa qua è la mia preferita. Ovviamente è di Kappa. E' un grande centrocampista. Andiamo alla prossima maglia. Le ultime due ci sono. Invece ci sarebbe un'altra che è della Juve del 2020. E' 18. Liguain che c'è all'altra casa. Dopo ce ne sarebbero. Dopo se ce ne sarebbero. Ce ne sarebbero altre due. Una di Ronaldo del 2019. E una di Ronaldo. Un'altra di Ronaldo del 2019. Però fake. Andiamo alla prossima maglia. Maglietta del Manchester United. Bellissima. Con il singolo dell'Adidas. Bellissima questa maglia. Anche questa. Ovviamente di quest'anno. E' di un centrocampista. Ex Juventus. Il polpo polpo bar. Questa qua. Questa qua bellissima. Andiamo alla prossima maglia. E' all'ultima maglia. Altra maglietta del Barça. Ma questa qua è un po' modificata. Me la sto facendo così. Perché. Questa qua. E' scrittissima. Eh. Vabbè. Comunque questa qua è un po' modificata. Perché. C'è scritto. Cristian. Il nome Cristian. Nr. 7. Perché il mio giocatore preferito. E' Ronaldo 15. Volevo mettere numero 7. Maglietta della Champions. Della. 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 Sede. Della. Della. Baccellona. Guardavo qua. 5 Champions. Vedo. Il Barça ha vinto. Dopo. Eh. Il singolo della Champions qua. E' stasera. Ovvero. Domenica. E' Non mi ricordo la data. Vabbè. Comunque. Oggi c'è la finale di Champions League. Bayer Monaco. PSG. E secondo me la vince il Bayer Monaco. 3 a 1. Vediamo un po' stasera. Comunque. Aio. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Bella. Ciao.